Oggi parliamo di metodi di studio efficaci per andare bene all'università. Un metodo in generale, a prescindere dal contesto, rappresenta comunque una serie di strategie che ci permettono di passare da un punto A a un punto B. Quindi sostanzialmente rappresenta uno strumento complesso che trasforma qualcosa in noi o ci permette per esempio di acquisire delle abilità e queste abilità poi si manifestano nell'ottenimento, nel raggiungimento di un obiettivo. Se questo ragionamento lo applichiamo all'ambito universitario, allora sappiamo che passiamo da un punto A quindi non so niente su questa materia, ancora non l'ho studiata, i concetti sono completamente nuovi per me al punto B, quindi l'arrivo, l'obiettivo raggiunto e B corrisponde al so tutto ciò che serve il metodo l'abbiamo capito, il metodo di studio l'abbiamo capito ancora di più e possiamo iniziare ad approfondire tutto l'argomento. Mi concentrerò in modo particolare, ma non esclusivamente perché voglio farti capire le differenze sul metodo di QE, il metodo di studio di cui parleremo tra poco, che ho creato e utilizzato in prima persona. In ogni caso, vediamo la sigla e poi ci addentriamo sui metodi di studio efficaci per andare bene all'università. Come ti ho detto prima, abbiamo parlato di metodo di QE. Se non lo conosci già, è un metodo di studio, l'acronimo DQE sta per Domina Qualunque Esame. Ho creato in prima persona questo metodo grazie alla mia formazione in ambito psicologico e alla mia formazione da psicologo. Ho utilizzato lungo tutto il mio percorso di studi per la prima e per la seconda laurea questo metodo e se non vuoi perdere troppo tempo ad ascoltarmi e vuoi dare direttamente un'occhiata a come hai fatto il metodo e capire se fa il caso tuo, ti lascio il link in descrizione. Invece, andiamo ad approfondire cosa lo caratterizza e cosa, secondo me, ti permette in termini di metodo di studio efficace di davvero andare bene all'università. Il primo elemento, secondo me, più importante è inquadrare fin da subito il fatto che ci sono delle regole per studiare in modo efficace. Come in qualunque cosa, c'è una dinamica che funziona, dei meccanismi che funzionano e dei meccanismi che non vanno bene. Quando qualcuno è bravo in qualcosa, parlo in generale in qualunque ambito, vuol dire che rispetta una serie di regole e di principi che permettono di ottenere risultati prefissati. Ecco, io ho applicato questo ragionamento andando a studiare e approfondire, anche attraverso il percorso universitario, i principi di studio, i principi dell'apprendimento, possiamo dire in un certo senso la psicologia dell'apprendimento. Ecco, seguendo questo, poi sono riuscito a sviluppare delle tecniche adattate, anche tecniche più note, e queste poi si sono strutturate nel metodo di QE in questione, che appunto mi ha permesso di superare i miei esami universitari. Ecco perché ho scelto questo nome. Ma non mi sono fermato qui, nel senso che, a mio avviso, qualunque studente o studentessa devono sapere di preciso, inoltre, cosa fare per gestire la giornata di studio. Cosa devo studiare oggi? Come devo studiarlo? Posso fare delle pause oppure no? E se non ho voglia di studiare? E se sono troppo stanco? E se ho studiato per troppe ore? Tutte domande importantissime, che sono appunto spiegate in modo pratico e anche più teorico, all'interno del metodo. Ci sono poi quattro fasi di studio fondamentali per studiare, a cui se ne aggiunge una prima ancora, che si chiama fase di pianificazione, che ti permette di sapere esattamente quando dare un esame, o perlomeno quando dare tutti gli esami e perché darli, e poi, infine, andrei ad approfondire anche quali sono, per esempio, i modi di personalizzare il metodo di studio e poi come si gestisce, nel modo migliore possibile, ogni esame, uno ad uno. In ogni caso, questo è quello che, a mio avviso, deve essere lo schema, la struttura di qualunque metodo di studio che sia davvero, davvero efficace. Io l'ho costruito a partire da questi presupposti e quindi questo è il motivo per cui te lo sto presentando perché per me è davvero importante proportelo. Detto questo, ovviamente, non tutti i metodi sono così ricchi e così strutturati, ma non vuol dire che non siano efficaci. E ti voglio parlare, per esempio, di quei metodi che nel mio canale, se mi segui lo sai, ho definito pronti all'uso. Cioè, sono dei metodi molto, molto, molto più semplici e, in generale, adatti a poter gestire piccole situazioni di difficoltà nello studio e mi riferisco, per esempio, al metodo SQ3R, al metodo PQ4R, al metodo Murder, al metodo Request o al metodo Diceox, al metodo PQRST e così via. Come vedi, sono tanti. Ognuno di questi ha un nome un po' strano perché sono degli acronimi che poi definiscono le varie fasi di studio. Questi, puoi capire che sono molto, molto più semplici, ma se adesso hai bisogno di un metodo per risolvere un piccolo problema, allora puoi tranquillamente sceglierli. Se il tuo obiettivo, invece, è quello di dominare qualunque esame, quindi andare bene in generale all'università, ottenere il meglio esame per esame, ovviamente ti consiglio il metodo DQE. Quindi le soluzioni per andare bene all'università sono tante. Bisogna capire cos'è un metodo, cosa rappresenta un metodo davvero efficace e quindi la conseguenza sarà ottenere risultati che desideriamo, non per qualche strana magia o per qualche consiglio di qualche guru, ma perché abbiamo seguito degli step che non solo sono efficaci, ma che sono necessari. Quindi se hai delle domande in merito a qualunque di questi metodi, ti invito a scrivere nella sezione dei commenti o attraverso il link che trovi in descrizione, in cui trovi anche il link se ti interessa, per il metodo DQE. Io ti ringrazio per il tuo tempo e per la tua attenzione e ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.